Ciao amiche, ciao amici, come liberarsi dalla timidezza? Questo video per rispondere a Rossi che mi seguo su YouTube. Ora, la timidezza è l'incapacità di interagire positivamente con gli altri, ma agire con gli altri sempre in una situazione di blocco, sempre in una situazione in cui non si è mai a proprio agio con se stessi, per cui è come una macchina che sta andando col freno a mano tirato, renderà molto meno di quanto potrebbe rendere. E per superare il blocco della timidezza devi riuscire a capire in prima istanza che è la tua parte emotiva che si nutre di timidezza, quindi devi farle prima a fare pieno di timidezza, per cui prendi, vai in un supermercato, un centro commerciale, e ti metti in situazioni di viverti la timidezza. Solo come obiettivo di viverti la timidezza vai e ci provi con tutte quelle che ti capitano tirano, nelle situazioni più imbarazzanti, in modo tale da viverti proprio l'imbarazzo della timidezza, fare il pieno di timidezza. Proprio in situazioni in cui magari, che ne so, c'è una che è con un'amica che parla, tu ti infili lì, lo fai, ripeto, non con l'obiettivo di riuscire, anzi, con l'obiettivo di farti mandare a stendere, ma il tuo obiettivo vero è quello di amplificarti la timidezza. In questo modo farai, darai il pieno di timidezza alla tua parte emotiva e quando avrai fatto il pieno non avrai più necessità di... e tra l'altro lì l'hai somministrato tu, quindi si alleerà automaticamente la tua parte emotiva, la tua parte logica e non avrai più assolutamente necessità di farti vivere la timidezza poi quando tu dovrai interagire con quella che ti interessa, perché ha già capito che tanto tu poi il pieno glielo fai fare la timidezza, per cui con quella persona lì, una volta che avrai dato un bel po' di timidezza prima, vedrai che ti comporterai in modo sciolto, tranquillo e sicuro di te stesso. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!